Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna si segnalano 3 km di coda in direzione Firenze e 1 km di coda in direzione Livorno. Fino alle 18.30 per lavori è chiuso lo svincolo di Ginestra Fiorentina in entrata e in uscita in direzione Livorno. Spostandoci in A1 in direzione Roma rallentamenti per il traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino. Sempre verso Roma per traffico intenso code tra Firenze-Impruneta e Firenze-Sud e code in uscita a Firenze-Sud provenendo da Bologna. In A11 code tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze, in A12 code per lavori tra il raccordo Luca-Viareggio e Versilia verso Genova. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!